A breve nella città di Agropoli sarà inaugurato un polo sociale. L'importante ufficio sorgerà presso l'ex casa del custode, sita nel primo circolo didattico Gino Landolfi di Agropoli. Tanti servizi che saranno offerti alla cittadinanza e tante le figure professionali che saranno impegnate a sostegno delle fasce più deboli. Lo stabile è stato completamente riqualificato dall'ente comunale agropolise. Sono orgogliosa di anticipare che fra qualche giorno ci sarà l'inaugurazione appunto di questo polo sociale, sito presso la vecchia abitazione del custode delle scuole elementari Gino Landolfi. Sarà un polo sociale molto importante che ospiterà il segretariato sociale e ospiterà anche altri professionisti del settore. Noi abbiamo cercato di unire un po' tutti i servizi che si offrono alla comunità. Quindi oltre ai servizi già effettuati dal segretariato sociale, quindi da noi operatori, assistenti sociali, psicologi, che vertono dall'assistenza agli anziani e disabili, gli assegni di cura, tutela per i minori, affidamento in prova agli ex detenuti e detenuti. Tra poco in questo polo ci affiancheranno anche le colleghe dell'Homcare, un servizio molto importante dell'Homcare Premium, che è un servizio di assistenza ed altro destinato alle persone con invalidità che hanno lavorato nella pubblica amministrazione o che hanno parenti prossimi, lavoratori della pubblica amministrazione. Quindi cercheremo di aggregare un po' tutte le azioni sociali e finalmente possiamo dare una risposta univoca alla popolazione.